Susi, la macchina magica. C'era una volta un bambino che si chiamava Emanuele. Era tanto simpatico e la sua passione erano le macchine. Il suo babbo gli aveva detto che di lì a poco avrebbero dovuto comprare un'auto nuova e questa notizia lo aveva entusiasmato talmente tanto che continuava a sognare ad occhi aperti la macchina che avrebbe voluto avere. Un bel giorno, al ritorno di scuola, la mamma gli disse che nel pomeriggio sarebbero andati a comprare l'auto. I suoi genitori non avevano tanti soldi così girarono da una concessionaria all'altra con il morale sempre più basso perché tutte le auto costavano di più della cifra che possedevano. Stanchi e sconsolati entrarono nell'ultimo concessionario non ancora visitato e mentre si aggiravano tra le auto un po' malconce Emanuele sentì. Psss. Psss. Emanuele si girò ma non vide nessuno e di nuovo Udi. Ehi sono qui scegli me. Il bimbo non credeva alle proprie orecchie e si avvicinò alla macchina da cui gli pareva venisse la voce. Era una macchina dall'aria vecchiotta e con la carrozzeria un po' arrugginita. Ma tu parli? Le chiese Emanuele e la macchina gli rispose. Finalmente qualcuno che mi sente. Sì io parlo e sono una macchina magica ma solo un bambino tanto buono può sentirmi. Emanuele si precipitò dalla mamma e dal babbo con fare concitato dicendo compriamo quella dai compriamo quella. I due guardarono la macchina indicata dal figlio e rimasero a bocca aperta. Era proprio una macchina bruttina ma con i soldi che avevano potevano permettersi solo quella. Un po' scoppiettando l'auto li riportò a casa e Susi così si chiamava l'auto rassicurò Emanuele che era solo un po' arrugginita dal troppo tempo di sosta e che in un battibaleno sarebbe tornata vigorosa come un tempo. Quella notte Emanuele non dormì. Continuò ad andare alla finestra per guardare la sua auto magica e Susi tutta contenta gli strizzava un fanale in segno di saluto. La mattina dopo il papà accompagnò Emanuele a scuola con la sua nuova auto che pensò aveva proprio bisogno di una bella riverniciata. Emanuele era seduto dietro nel suo seggiolino con la cintura di sicurezza allacciata e giocava con una Lamborghini della polizia nuova di zecca. Purtroppo quest'ultima gli cadde di mano proprio mentre con la sua fantasia la Lamborghini stava per braccare i fuggitivi e andò a finire sotto il sedile del babbo. Non ci pensò due volte doveva acchiappare i ladri che stavano scappando e si slacciò la cintura di sicurezza per chinarsi a prenderla. Proprio in quel momento il papà dovette frenare bruscamente per evitare di tamponare un'altra auto e Emanuele si sentì sbalzare con gran forza verso il parabrezza. Fu questione di un attimo. Mentre Emanuele stava per sbattere addosso al vetro, Susi impiegò tutta la magia che aveva per trasformarsi nell'unica cosa che avrebbe evitato un impatto tremendo del bimbo sul vetro. Una macchina di gomma. Emanuele rimbalzò sul parabrezza diventando gommoso e ritrovò e si ritrovò seduto nel suo seggiolino. Il babbo attonito si girò e disse ma ma cosa è successo? Perché mai ti sei slacciato la cintura di sicurezza? Volevo prendere la Lamborghini era finita sotto al tuo sedile e i ladri stavano scappando. Disse Emanuele dispiaciuto. La prossima volta lo dici a me. Accosto la macchina e te la prendo. Non slacciarti mai più la cintura lo sgridò il babbo. Emanuele capì e a bassa voce ringraziò Susi per averlo salvato diventando di gomma. Ma stranamente la macchina non rispose. Susi aveva impiegato tutta la sua magia per trasformarsi in gomma e quella poca che le rimaneva era servita a ritornare normale sperando che il babbo non se ne accorgesse. Mentre il babbo non riusciva ad avere un ricordo sensato dell'accaduto Emanuele si rese conto che Susi non era più magica e da quel giorno non si slacciò più la cintura. Perché oggi questa favola? Perché oggi domenica 15 novembre è la giornata mondiale delle vittime della strada. Un momento di ricordo e riflessione che viene dedicato ogni anno la terza domenica di novembre alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari. Proclamato nella prima volta dall'ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite, nel 2005 per contribuire al cambiamento delle cattive abitudini degli automobilisti. Quindi mi raccomando non slacciamoci la cintura ci può salvare la vita. Io ringrazio nuovamente Antonio Sinibaldi per l'occasione che mi ha dato e ci sentiamo la prossima alla prossima. Ciao